Al quinto posto, abbiamo la PL L'azienda spagnola PL Ocho Trends ci utilizza questa tabella che include 7 videogiochi. Come al solito, entrambi i tavoli principali sono biliardo e calcio da tavolo. I vari altri videogiochi sono ping pong, push ok, ok su ghiaccio, craps e blackjack. La forte struttura in MDF e anche le gambe rinforzate assicurano una grande stabilità. Le gambe sono regolabili per rendere certo il livellamento ideale del campo divertente. I pali da calcio da tavolo sono incassati, un elemento che deve sempre essere preso in considerazione per prevenire il pericolo o di incidenti indesiderati, sono in acciaio cromato con una dimensione di 16 mm. Al numero 4, abbiamo Solex, tavolo multigioco. Tavolo multigioco prodotto dalla tedesca Solex Sports che comprende 12 compiti vari. Il framework è realizzato in MDF ed è anche piuttosto robusto e quelli davvero massicci garantiscono un'eccellente sicurezza. Una tabella ben completata in tutte le informazioni. I compiti principali rimangono il biliardo e il calcio da tavolo. Anche per questo modello i pali del biliardino non sono incassati, quindi dovrai sicuramente stare attento. Marcatore è appassionato di round dietro i gol abitualmente. Anche il tavolo da biliardo coperto con asciugamano ecologico sarà un'assistenza per gli altri giochi che possono essere modificati molto rapidamente. Al terzo posto, abbiamo la Smoby calcetto multigioco. Il francese Smoby ci offre questo tavolo multigioco per i giovani molto più facile del precedente, si concentra, infatti, su quattro videogiochi. Le due primarie e anche sicuramente le più importanti, restano il calcio da tavolo e il biliardo. Gli altri due videogiochi sono ping pong e hockey. Costruito in MDF molto robusto, con colori intensi e un layout meraviglioso. I piedi hanno traverse che si uniscono a loro per dare maggiore sicurezza. Sicuramente dovrà essere assemblato, quindi ci vuole sicuramente un po' di pazienza prima di iniziare a giocare. Passare da un gioco all'altro è davvero semplice. Al numero 2, abbiamo il Garlando Games tavolo. Garlando C.U.S. ha un tavolo con 12 videogiochi appassionati, calcio da tavolo, biliardo, ping pong, speed ok, bovling, shuffleboard, backgammon, blackjack, scacchi, datilografi, dadi e carte da gioco. In tecnica, è una sala ricreativa completa che sicuramente utilizzerà diverse opportunità di divertimento senza mai aprire la strada alla noia. Forte e ben completato, il tavolo torna con tutti i dispositivi per costruirlo, un'operazione che avrà sicuramente bisogno di un po' di pazienza. Un regalo eccellente per i giovani che farà giocare tutta la famiglia insieme. Ovviamente, le dimensioni sono un po' piccole e le efficienze non sono quelle di un videogioco a barre. Infine, il numero 1 nella nostra lista, abbiamo il Garlando Tavolo Multi. Un tavolo multigioco di grado maggiore rispetto agli altri ma ha anche un costo distintamente vario. Paghi per la qualità dell'articolo made in Italy. Il tavolo comprende 9 videogiochi, biliardino, biliardo, ping pong, hockey, bovling, shuffleboard, backgammon, scacchi e datilografi. Per addestrare entrambe le braccia e anche la mente. Il tavolo rimane in MDF con rivestimento in melammina, 25 mm di spessore, colore ciliegia. È supportato da gambe quadrate resistenti, lato 9 cm, anche in MDF con finitura melamina color ciliegia. Piedi regolabili per un perfetto progresso. Il look è molto sofisticato e sobrio senza etichette adesive brillantemente colorate. Come sempre, troverete tutti i link dei prodotti che abbiamo discusso in questo video giù nella descrizione qui sotto. Grazie per aver guardato il nostro video, si prega di come condividere questo video, e non dimenticate di iscrivervi al nostro canale per i video futuri. Grazie per aver guardato il nostro video.